come aumentare gli fps su fortnite ovviamente si riscontra i problemi di lag su fortnite ma vuoi fare più fps ovviamente se hai un pc di fascia media e fai sui 50 60 fps però vuoi aumentare un po di più questa è la guida che fa per te ovviamente faremo un sacco di cose in questo video come puoi vedere la differenza tra il lag di fortnite e due più di 217 220 fps su fortnite grazie a vari settaggi e modifiche nella sua cartella e nel gioco quindi in questo caso andiamo sul nostro desktop e andiamo direttamente sul nostro programmino che vi ho lasciato in descrizione quindi in questo caso se hai problemi con il link entra nel mio server discord ti manderò direttamente io il pacchetto rare basta che specifichi così il pacchetto rare che ti serve e io te lo mando ovviamente il pacchetto si chiama nvidia profile inspector.exe è un pacchetto rare quindi all'interno nel pacchetto rare ci sarà così la cartella di nvidia profile inspector ed ecco qua il programmino ovviamente ci clicchi sopra andiamo così ad aprire il programma ovviamente questo programma funziona sempre su fortnite su qualsiasi stagione basta che scrivi fortnite qua una volta fatto andiamo così a modificare le impostazioni quindi su anti aliasing transparent multi sampling questo qua lo ability questo qua super sampling metti così il 0030 doppia mod replay questo qua scendi fino a giù fino a trovare così texture filtering lo metti su on e su texture filtering load bias del directx opencl metti più 2.8750 ovviamente se non ti basta puoi sempre mettere il più 3.40 e poi una volta fatto applichi così queste impostazioni ovviamente questo programma si collega anche alla cartella di fortnite come puoi vedere fortnite win64 shipping trattino basso b punto exe stesse cose che si trovano nella cartella di fortnite una volta fatto chiudiamo un attimo qua e andiamo direttamente su app data quindi per aprire così il programmino esegui vai esegui scrivi qui per cento app data per cento entriamo così nella sua cartella vai su app data qua sopra vai su local scendi fino a giù fino a trovare così la cartella fortnite game save config windows client game user settings ed eccoli qua e qui andremo a modificare le impostazioni grafiche del gioco tutti i parametri quindi se c'è una qualità delle ombre texture mesh sta messo su 1 2 3 o 4 mettile a 0 ovviamente come puoi vedere se lo trovo stava qui questo no questa è la risoluzione quindi andremo anche a fare varie modifiche anche alla risoluzione prendiamo fino a giù ed eccolo qua ray tracing per chi sta usando il ray tracing qui i parametri da 3 metti 0 tv 0 chat settings scalability groups questo qua andiamo così a inserire la texture quality metti su 0 tech sulla qualità della text 0 qui 0 qui 0 qui 0 qui 0 qui 0 la qualità della soluzione la soluzione 3d qui metti su 35 qui metti 0 e la distanza di qualità metti 1 una volta fatto vai su salva file salva così il file game user settings una volta fatto possiamo anche modificare così la risoluzione su fortnet ovviamente come puoi vedere l'asse x della risoluzione è 1920 e quella y è 1080 se vuoi aggiungere così lo stretch su fortnet quello che ti consiglio da fare al posto di 1920 metti 1750 stessa cosa anche su questo 1750 lo facciamo su tutti e 4 750 una volta fatto file e salvi così il documento game user settings chiudiamo qua quello che ci resta da fare ora è andare su fortnet ora per fortnet andiamo sui tre puntini vai direttamente su gestisci opzioni di lancio trattino di 3d 11 metti questo qua avvi così il gioco nella modalità di rendering direct x11 al posto del direct x12 che lag sui tre puntini vai su opzioni shader direct x12 texture ad alta risoluzione togli la spunta su questi due e fai applica e riduce anche lo spazio su fortnet vai su avvia e andiamo a modificare le impostazioni su fortnet ok una volta fatto andiamo direttamente sulle nostre impostazioni di fortnet andiamo così a personalizzare la grafica v sync metti no limite frame rate metti il limitato modalità di rendering come avete visto direct x11 ora andiamo direttamente sul motion pro che sarebbe la sfocatore metti su no su pre impostazione di qualità metti ridotto risoluzione 3d metti 50 queste due non possiamo abilitarle perché serve direct x12 ombre metti no riflessi metti no distanza visuale metti medio texture metti medio effetti ridotto post processing ridotto mostra fps e facciamo applica e riguardo anche alla risoluzione finestra schermo intero schermo intero schermo intero 1280x720 o 1600x900 finestra a schermo intero e fai applica se non dovesse funzionare mantieni così le modifiche andiamo direttamente sul nostro pannello di controllo di invidia se hai questo pannello ti ho lasciato il link in descrizione pannello diciamo invidia control panel eccolo qua andiamo direttamente su modifica della risoluzione ed eccola qua personalizza ovviamente nelle risoluzioni che ho creato quelle personalizzate vai su personalizza crea risoluzione personalizzata qui come ho detto nel documento 1750x1080 vedo l'uscita di aggiornamento 165 hz che sono i miei sul mio monitor e faccio prova ed eccola qua e faccio ok vediamo se è salvata qua sopra andiamo direttamente sempre su quelle salvate 1750x1080 e faccio applica si teniamo queste modifiche ed eccola qua 1750x1080 abbiamo aggiunto così lo stretch anche su fortnite e mi raccomando per raggiungere così lo stretch devi per forza mettere la modalità finestra a schermo intero quindi se questo video ti è stato utilissimo su come aumentare gli fps riducendo così la grafica aggiungendo così lo stretch modificando la risoluzione e cambiando varie impostazioni nella grafica di fortnite iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial su fortnite e quindi vi saluto ciao ciao